ciao bambini allora oggi voglio fare con voi la sabbia cinetica allora ci servono 300 grammi di semolino o farina integrale 100 ml di olio e 300 grammi di amido di mais allora prendiamo gli ingredienti mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola con l'olio giriamo tutti gli ingredienti giriamo giriamo con un cucciaio dopodiché facciamo con la mano ecco qua in questo caso la sabbia cinetica è pronta i bambini potranno realizzare qualsiasi cosa delle palline un fiore ok buon lavoro ciao bimbi